Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, ci voleva la pioggia negli ultimi giri per mandare all'Arie 48 un gran premio di Russia, comunque divertente sin dai primi metri, quando una rossa, quella di Carlos Sainz, pur partendo dal seconda piazzola che in passato non aveva riso ai partenti sul tracciato di Sochi, ha mantenuto la testa per 13 giri. Poi, riuscendo meglio a gestire le gomme, Lando Norris, che si era posto in seconda posizione, è riuscito a sopravvanzare il ferrarista. Intanto nelle retrovie Max Verstappen recuperava posizioni e chiudeva al secondo posto con gli ultimi giri battuti in alcuni settori del tracciato dalla pioggia. Ma in Russia, terra Mercedes, i gran premi da quando si corre in riva al Mar Nero hanno sempre arriso la stella a tre punti. E Louis Hamilton oggi è il primo pilota della storia ad andare in tripla cifra, vittoria numero 100, sudata, cercata, meritata. Dopo che l'ultimo successo datato Silverstone, con il famoso botto che aveva escluso il navio Verstappen, il pilota inglese ha tirato fuori una prestazione da Ammertime nella seconda parte di gara, recuperando, sopravvanzando avversari e avvicinandosi a Lando Norris. Una gara che ha vissuto da battaglie davanti, ma battaglie anche dietro, visto il parterre del Roy, delle ultime file. Ultime file che vedevano Verstappen, Leclerc, Bottas, lo stesso Galsley che partiva in sesta linea per un gran premio, comunque divertente e ricco di sorpassi. E Louis Hamilton ha meritato alla fine. È stato quello che è entrato prima ai box, nonostante pareva rimettesse quel gocce di pioggia che avevano incominciato a bagnare la pista russa e invece ha azzeccato. Dietro un po' di confusione, chi ha atteso, chi soprattutto ha sofferto con le gomme e dure, chi con le medie si è barcamenato, giusto anche il termine, visto che parte della pista era lagata proprio le ultime tornate, gli ultimi chilometri, continui cambi di posizione. E alla fine il podio che vedete alle mie spalle. Grande prestazione di Verstappen, che però ha dovuto subire nell'ultima parte di gara asciutta anche un sorpasso da parte di Fernando Alonso. Gara positiva per lo spagnolo, nonostante una partenza incerta, ma anche perché lui e Ceco Perez avevano optato, unici dei top 10, a partire con gomma dura, mentre tutti gli altri avevano la media. Nessuno ha messo la soft durante l'arco della gara e dietro anche chi partiva di rimonta ha montato le dure e Alonso è arrivato anche a carezzare il podio. Secondo, dietro Perez, prima del loro tardivo pit stop, alla fine ha combattuto con le Ferrari, con Perez e pareva che potesse accarezzare il terzo gradino del podio. Ma poi, anche per lui, visto che comunque le medie, come ad altri, garantivano una migliore aderenza sul tracciato, via via più srucciolevole, alla fine è dovuto rientrare ai box e non ha avuto troppo tempo, due giri soli, per confermare la posizione di partenza. Ma grande comunque la prestazione di Carlos Sainz, che regala alla Ferrari un nuovo podio, il suo quinto, terzo stagionale, mentre Leclerc, nonostante una buona rimonta sul finale, si è dovuto arrendere, per così dire, a giove e pluvio, chiudendo fuori dai box, dai punti, rischiando anche di andare a sbattere, non riuscendo a girare la sua Ferrari su una pista, in alcuni tratti bagnata, in altri meno bagnata, e in altri addirittura asciutta e, se fossero stati necessari qualche altro giro, magari che aveva montato l'intermedia, avrebbe sofferto, perché è durato poco, l'apertura dei rubinetti dal cielo. Ma alla fine Lewis Hamilton porta a casa una vittoria importante, anche la centoventesima per la Mercedes, che si unisce al club di chi è arrivato a quel traguardo, ovvero sia Ferrari e McLaren, ma già da oltre vent'anni, un risultato che conferma, come detto, il buon feeling tra la vettura tedesca e la pista di Sochi, dove ha sempre vinto, e ancora una volta, il Polman è contato e poco. Ma Polman, che è stato protagonista. Lando Norris veloce, battagliero, è riuscito a rimontare posizioni su Sainz per poi mantenere comunque, nonostante un pit stop così un po' incerto, la testa della gara, nonostante un Hamilton arrembante alle sue spalle, però si è un po' perso, è un po' annegato, se così vogliamo dire, sul finale di gara. Quando è arrivata la pioggia? Quando è stato tra gli ultimi a decidere di entrare ai box e di mettere le intermedie? Uscita di pista, come vedete, per lui, anche per Hamilton, alla fine cercava di mantenere la testa, ma la scelta poi di Hamilton di anticipare l'entrata ai box e per mettere le gomme di a pioggia, si è rivelata decisiva, anche perché poi nel tentativo di tornare ai box, il pilota della McLaren, voglioso di replicare la vittoria di 15 giorni fa di Ricciardo, dopo la poll di ieri, manca l'ingresso inizialmente alla corsia pit stop della pit lane, ci rientra oltrepassandola, ed è per quello che è stato da poco chiamato dai commissari per spiegare l'accaduto, e chissà che possa arrivare per lui una penalizzazione che magari sarebbe forse eccessiva, vista la penalizzazione alla fine del risultato, e vista anche un po', cosa che non dovrebbe accadere, anche la sua risposta abbastanza secca, quando era stato richiamato ai box, ed è forse anche per quello che non avendo ascoltato il team, ha perso punti preziosi, alla fine è chiuso settimo, ma stiamo a vedere se manterrà tale posizione. Valtteri Bottas, gara in chiaroscuro, anche lui penalizzato per il cambio di unità di potenza, si diceva farà da stopper, cercherà di limitare la rimonta di Verstappen, ma ai noi, anzi, ai lui, così non è stato. Verstappen lo ha passato facilmente in avvio nella prima parte di gara, mentre lui faticava, ancora una volta a dimostrazione che il finnico può conti deboli, ma poi quando iniziano i piloti coriacei la situazione si fa difficile, ma alla fine, scegliendo di entrare prima di altri ai box, è stato premiato, chiudendo a punti al quinto posto, cosa che aveva anche vaticinato Toto Wolff, è il team in chiusura di gara, che ripeto, se fosse finita con pista asciutta, avrebbe avuto un altro ordine d'arrivo, anche se magari Hamilton sarebbe stato in grado di piazzare la zampata vincente, come è stato. Verstappen secondo di rimonta, però poi montando le medie, visto che il gruppone montava le dure, avendo iniziato la gara il gruppone con le medie, ha sofferto. È riuscito a recuperare posizioni, ma una volta che è finito negli scarichi di Fernando Alonso, ha affaticato. Si è visto addirittura sopravanzare dal pilota della Alpine, che riusciva a mantenere le distanze. Dopodiché il gioco appunto del riuscire a gestire la pioggia con le gomme slick, prima di rientrare ai box, ha consentito comunque al pilota olandese di trovare soluzione e di sarsi in seconda posizione. Galaxy rimonta, ma ripeto, se fosse rimasta secca la pista, io credo che la sesta posizione sarebbe stata la sua, risultato ben diverso da quello che invece consente sia Hamilton di riportarsi davanti nella classifica mondiale, ma di sole due lunghezze. Sette gare alla fine, se sette saranno, e grande battaglia si annuncia. Con Verstappen, che oggi arriva secondo, avendo cambiato il motore, Hamilton è a rischio di dover sostituire una power unit, quindi un minimo vantaggio da questo punto di vista. Arrivano piste divertenti, come la prossima tra due domeniche in Turchia e Istanbul, una pista che in teoria dovrebbe essere favorevole olandese alla Red Bull, ma come sempre è la bandiera scacchi che determina vincitore, podio e divisione dei punti. Punti che trova anche Ceco Perez, parte nonno, arriva nonno, ma come dicevo, a metà gara e oltre si è trovato in testa, prima del ritardato pit stop con Alonso dietro secondo, essendo gli unici due della Totten partiti con le gomme dure e poi con le medie, se la cava riesce a risalire posizioni, ma anche lui subisce con uno scatolato Alonso sulla pista che andava bagnandosi, il sorpasso dell'Asturiano, comunque grandi lotte, grande battaglie, anche tra fette le stroll che si sono toccati, comunque episodi di gara, ma c'è da dire le condizioni così imprevedibili alla fine, non hanno portato a incidenti e neanche a un safety car che non si è visto. In questa edizione del Gran Premio di Russia, ma alla fine Perez, penalizzato ancora una volta, c'è da dire purtroppo da un altro pit stop negativo che gli aveva fatto perdere parecchio vantaggio rispetto ad Alonso che lo seguiva, ma anche in relazione alla testa della gara, il messicano non riesce ancora a trovare quel quid che gli consenta di portare a casa un buon risultato. Buon risultato che invece trova Daniel Ricciardo, dopo il gran sorriso e la gran soddisfazione di avere portato a Monza il successo dopo nove anni la McLaren, Daniel centra un quarto posto e punti importanti che consentono alla McLaren con 234 punti di mantenere sulla Ferrari 216 e mezzo, il terzo posto del Mondiale Costruttori. Ricciardo in partenza si vede sfilato da Alonso, recupera sempre nel primo giro la posizione all'Asturiano e alla fine di Sciabola e di Fioretto porta a casa un quarto posto importante che conferma questo trend positivo del pilota australiano. Da notare per i top 10 Kimi Raikkonen che nelle ultime gare prima del ritiro dalla Formula 1 riesce a portare l'Alfa Romeo nella top 10 e un punto anche per George Russell. Parte bene dalla terza piazzola in griglia, riesce a mantenere la posizione nella prima parte di Gran Premio, cosa magari inaspettata anche perché il ritmo della Williams che ha migliorato le sue prestazioni gli hanno comunque consentito di battagliare, ha anche fatto, perché ovviamente il ritmo comunque gara non è all'altezza dei big da tappo e ha distanziato il gruppo degli inseguitori in avvio gara dal duo Sainz-Norris, Norris-Sainz dopo il sorpasso, dilando ai danni di Carlos, un Sainz positivo che resta davanti al compagno di squadra Leclerc, 112 e mezzo, 104, nel Mondiale Piloti dove, come dicevo, Hamilton rimette il naso davanti, festeggiando nel migliore dei modi. La vittoria al numero 100, numeri che dimostrano lo strapotere suo della Mercedes in un settennato, questa è l'ottava stagione, che comunque sarà dura da dirimere, magari dovremmo arrivare fino all'ultima gara per capire cosa succederà, tenendo conto anche della presenza in Brasile, qualora alla fine, come pare, si corre ad Interlagos del weekend con la short qualifying, altri punticini, ma alla fine basta poco per decidere un Gran Premio, per mischiare le carte o le monoposto in pista, ma alla fine, guarda caso, davanti ci sono i manici, i piloti che sanno condurre e che se la sono cavate egregiamente senza pochi danni o troppi danni su una pista che andava via via bagnandosi, penultimo Gran Premio di Russia in quel di Sochi, un Gran Premio che consente a Lewis Hamilton di riportarsi in testa al Mondiale Piloti, un Mondiale comunque divertente e combattuto, e in queste condizioni si saltano anche vetture come la Ferrari Terza, che è arrivata a comandare la gara, un Alpine che ha rasentato il podio con Fernando Alonso, e una McLaren che conferma il buono stato di forma. Come detto, si chiude il Gran Premio di Russia 2021, prossimo appuntamento sul tracciato di Istanbul, Gran Premio di Turchia.